Questo matrimonio non sa da fare. Il matrimonio è quello tra Italia Viva e Forza Italia e il don abbondio della situazione sono Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. I leader dei tre partiti del centrodestra infatti hanno annunciato l'accordo tramite il quale la Lega esprimerà il candidato sindaco per le amministrative di diverse città del centro-sud, tra cui Chieti. Ma nel capoluogo teatino era di dominio pubblico, già da diversi giorni che Forza Italia avrebbe supportato, insieme ad Italia Viva, Bruno Di Iorio contro Fabrizio Di Stefano, voluto da Lega e Fratelli d'Italia. Nelle ultime ore però è arrivata l'imposizione da Roma. Il centrodestra rimarrà unito, le parole dei tre leader, a sancire quella che è una vittoria della Lega che esprimerà il candidato sindaco nella maggior parte dei comuni. A Chieti però la decisione che scende dall'alto è destinata a creare non pochi fastidi. Oltre infatti a dover ritrattare tutto ciò che è stato detto nei giorni scorsi, è noto che all'interno del centrodestra teatino non corra buon sangue. Forza Italia infatti ha minacciato in diverse occasioni di far cascare l'amministrazione di primio, fino al passaggio del primo cittadino dal partito di Berlusconi a quello della Meloni e all'intenzione delle diverse forze della coalizione di sfidarsi nella campagna elettorale. Adesso però è tutto ribaltato, in grande spirito di collaborazione scrivono i vertici del partito e i berlusconiani dovranno tornare al capezzale di Di Stefano. Rimane aperta però la questione Italia Viva che a sorpresa si è ritrovata orfana del proprio alleato. Uscire dai vecchi schemi della politica divisa in destra e sinistra nella politica fatta di partiti che non hanno in questi anni trovato soluzioni per il declino della città di Chiedi. Per invertire quel declino che il centrodestra nella versione sindaco di primio ha portato avanti e purtroppo crollo dei prezzi degli immobili, chiusura degli asili nido, chiusura delle scuola bus che non sono più al servizio della città, manutenzione inesistente, un buco di bilancio gravissimo e dall'altra parte un centrosinistra che in questi anni non è riuscito a costruire, come noi chiedevamo, un'alternativa valida per la guida della città. I sogni di un fronte centrista e liberale però sono stati interrotti sul nascere, adesso tutto in bilico, in primis la candidatura di Bruno Di Iorio.